Bentornati, oggi vi presento la spazzola Tubo per radiatori, una spazzola particolarmente indicata per pulire radiatori, termoarredo, ovvero con gli oggetti della propria casa difficili da raggiungere e da pulire con le spazole tradizionali. Per utilizzare la spazzola Tubo per radiatori è necessario abbinarla alla spazzola Tubo per angoli. Grazie a tutti.